a fuoco ciao amici stasera facciamo la zucca di halloween giordano è andato a prenderla dobbiamo fargliela se aspettiamo che la fa lui non la farà allora la facciamo noi e vi spiego come come farla vedete quasi ha fatto un primo primo assaggio della sua faccia ma quello che ci interessa adesso è questa parte ma intanto andiamo a farla bene per inquadrare anche sopra bene procediamo con il taglio adesso io quando coltelli non so quale sarà il migliore proviamo dobbiamo entrare evitando di romperla dopo questa cosa velocizziamo magari allora signori abbiamo fatto il primo taglio anzi secondo il primo è stato questo secondo è stato questo e adesso possiamo alzare la nostra prima parte wow il zucca no abbassa ok e viene fuori così ecco qua mette fuoco e facciamo uscire la bocca guarda che meraviglia dovrei fare una foto io adesso però se schiacci fa la foto assicuro meravigliosa fra ecco poi il problema finale sarà ripulirla bene dentro adesso noi abbiamo un'apertura abbastanza piccola per cui continuo a scavare così dovrebbe ripulare così dovrebbe ripulire abbastanza bene però adesso per farvi vedere insomma l'abbiamo praticamente ultimata è piena di fili dentro scivolosissimi che difficilissimo difficilissimi da prendere per cui state attenti a non romperla tirate fuori il più possibile e siete a posto ed ecco praticamente terminata la nostra zucca adesso vi faccio vedere come viene con la lampada dentro una candelina con la candelina dentro allora questo sono io ciao a tutti e questa è la nostra jackie o lantern io vado a spegnere le luci carina bellissima molto figa ciao a tutti